Oggi è una grande festa per l'Agenzia perché siamo riusciti nei tempi previsti a spendere bene i soldi che il PNRR ci ha riservato per l'acquisto di un nuovo battello oceanografico progettato e realizzato specificatamente per la nostra attività. Questo significa che in prospettiva potremo svolgere la nostra attività di monitoraggio sul mare con maggiore efficacia, maggiore precisione e, perché no, anche con maggior rispetto dell'ambiente visto che questa barca ha una serie di devices in termini di gestione dei motori per cui è molto meno inquinante del vecchio battello che avevamo. La complessità dei problemi ambientali che dobbiamo affrontare ci impone un approccio integrale. La salute dell'ambiente e la salute degli animali sono la salute dell'uomo, quindi strumenti come la nostra barca Polaris attrezzati per un monitoraggio attento che ci permetta di determinare la salute del mare sono fondamentali per garantire anche il massimo della salute dei nostri cittadini e del genere umano.